Allora, questo l'anello deve cadere e deve bloccarsi. Lascio andare e sei bloccato. Signori, questo è il mio numero di cellula. Peppino, vieni qua. Vieni qua, Peppino. Peppino, dai, vieni qua e facciamo prestigio. Dai! Dai, Peppino, 23 secondi per far vedere. Dai, vieni qua. E fai vedere ancora la prova, dai. Vieni qua, Peppino, guarda, fai cadere. Fai cadere l'anello e si blocca, hai capito? Guarda che si va a fare. Ma io lo fa a fine adesso. Eh, sentiti, sentiti. Mostraci il ciccio. Stai, guarda qui, non so l'interno. Fai tu, fammi, fammi. Prighi, te fai, ma 10 secondi. Ma sta andando via. No, dai, è pronto. Vieni qua, te la fai. Vieni qua, te la fai. Vieni qua, vedete il Peppino che così non c'è trucco, non c'è arrivato. Vai, 15 secondi. A posto. E va via. Dove va? Vieni qua, vedete il Peppino. Vieni qua.